Se i giorni dopo Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li conduce su un alto monte in perfetta solitudine e campiò d'aspetto davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divenne bianche come la luce. Dinanzi a questo episodio esaltante della vita di Gesù ci domandiamo che significato ebbe per i discepoli. Per gli apostoli che avevano visto sempre Gesù sotto l'aspetto umano, simile agli altri uomini, fu una visione sconvolgente. Il Vangelo ci dice che chi lo vedeva si domandava, non è questo il figlio del falegname. La sua vita era quella di ogni altro uomo, cresceva, lavorava, sudava, eppure era Dio e reggeva con Dio Padre l'universo. La trasfigurazione è l'improvvisa manifestazione all'esterno della realtà profonda di Gesù. Sul mondo, alla luce sfolgorante, si unì la voce di Dio Padre. Questi è il mio figlio di letto, ascoltatelo. Quel giorno i discepoli conobbero il vero Gesù che ignoravano ancora e rimasero sconvolti. La trasfigurazione di Gesù ci interrova in prima persona. La nostra vita di credenti scorre nella prova. Il dolore ci accompagna. L'orizzonte della fede pare scomparire. Vediamo solo la realtà presente che si fa sentire con tutta la sua sprezza. In questa prova della fede brilla la pagina della trasfigurazione come una certissima vittoria. Abbiamo in quinti il dolore. Le varie sofferenze finiranno. Un giorno ognuno di noi e l'universo intero saremo trasfigurate per partecipare alla gloria di Cristo vivente. Il dolore attuale è un dolore da parto, secondo San Paolo. Noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo aspettando l'adozione a figli, la piena redenzione del nostro corpo. Intanto, come Gesù fece con Pietro, Giacomo e Giovanni ci viene vicino e ci esorta a ridiscendere dal mondo. Ci invita a seguirlo verso Gerusalemme, cioè nelle prove della vita quotidiana. Un cammino con poche gioie e tante sofferenze, ma confortate anche noi dalla trasfigurazione di Gesù. È la nostra partecipazione alla Santa Messa, durante la quale Gesù si trasfigura da pane e vino nel suo corpo e nel suo sangue. Gesù è con noi, è in noi. Gesù aveva detto a Padre Pio Santificati e Santifica. Per cui, quando giunge a San Giovanni Rotondo, il programma è già definito. L'ambiente è adatto, povertà e silenzio. Il convento è un rumitaggio, l'ambiente è un autentico deserto animato solo dal velare delle pecore condotte al pascolo. La sua presenza viene notata ed egli dà vita a un movimento spirituale. Si fa carica delle necessità della Chiesa universale, della situazione dell'Italia sottoposta alle sofferenze della guerra, dei bisogni della Chiesa di San Giovanni e dell'intera diocesi. Padre Pio si offre vittima per la salvezza di tutti. Grazie a tutti.